Villa Congresso, Villa Cagnola di Gazzada, sotto la guida esperta del leader Antonio Massafara, è il cospetto di criticità che pretendono un'urgente risposta. Noi stiamo chiedendo a questo governo, con forza, di spendere bene questi tanti soldi che stanno arrivando e che sono arrivati dal PNRR per creare il lavoro. La parola magica che conosciamo è questa. Spendere bene i fondi significa investire nelle autentiche coordinate di sviluppo, quelle che innescano i meccanismi virtuosi capaci di creare economia e lavoro. Da un lato facendo leva su ciò che Varese ha e altri territori no, in primis Malpensa, riduce dal sospirato via libera al masterplan. Far decollare l'hub di Malpensa è un bene che sia stato sottoscritto un protocollo verso la regione, però lì occorre, e questa è la proposta che facciamo, un accordo per quanto riguarda la legalità e lo dobbiamo fare insieme a tutti gli attori istituzionali presenti dentro Malpensa. Dall'altro lato seminando nuove opportunità per una platea giovanile afflitta dal precariato e a corto di sbocchi professionali, anche a causa del cosiddetto mismatch, il mancato incontro tra domanda e offerta di lavoro. Sul tema il segretario va dritto al punto, occorre adeguarsi alla realtà, non viceversa. Se non c'è più bisogno di avere 100.000 avvocati, c'è bisogno di avere 80-100.000 tecnici specializzati al passo con quelle che sono le nuove tecnologie, bisogna che indirizziamo le persone verso questo futuro, altrimenti creiamo un futuro da disoccupati per questi giovani.